Benvenuti su notizienunclick.com, io sono Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato fino adesso e che andremo a pubblicare nel corso della giornata di oggi, sabato 25 marzo. Iniziamo con, è sempre la solita storia, per l'ansia di modernizzare si penalizzano i più deboli. Partito Democratico, Bersani, rientro ma in punta di piedi. La vera guerra mondiale non sarà causata dall'Ucraina ma da Taiwan. Meteo, il weekend è turbolento, domenica arrivano i rovesci e temporali. Deutsche Bank crolla del 10% e impennata del CDS. Le banche europee ancora al centro dell'attenzione per l'educazione finanziaria. La Quill Sport lancia la Real Estate Ski Cup, Welfare la legge del terzo settore. Questo e molto altro potete trovare su Notizie Non Click. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima mini rassegna. Loredana Loredana Loredana